Saluto gli amici di Teleradio Sanseviro 99 TV, sono Antonio Roberto Mazzio, ringrazio per avermi concesso questa intervista. Mi trovo in Grigia alla violinola University di Corfu come pianista accompagnature, sono qui dal 1 marzo 2015, il 1 marzo scorso, e il mio contratto scaderà alla fine del prossimo luglio 2015. Come dicevo sono pianista accompagnature con ripetitore della classe di musica vocale, della classe di musica da camera e posso collaborare con tantissimi strumentisti. Provo per questo, è un'esperienza che posso consigliare a tutti coloro che possono avere questa possibilità, perché è un'esperienza che ti arricchisce dal punto di vista umano, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale, dal punto di vista artistico. Un'esperienza che non capita tutti i giorni, poter appunto avere la possibilità di fare concerti in università, nel teatro di Kerkila, nel Demoticon Teatro, il teatro municipale di Corfu. Ho fatto anche altri concerti in Politerno, farò altri concerti alla Ionian Academy. Spero che tutto vada per il meglio, posso dire che sono veramente entusiasta, sono veramente felice, sono veramente contento di come stanno andando le cose. Non dimentico comunque la mia patria, ma posso dire che qui veramente si respira un'aria davvero bella. Vi ringrazio ancora per avermi dato questa possibilità, vi terrò aggiornati qualora voi vogliate, sui miei prossimi appuntamenti. Grazie.